Più che cambiare o non cambiare, l'importante è che sia battaglia fino alla fine, e quello è il segreto. Come lo è stato anche l'anno scorso? L'altranno, sì, l'altranno Napoli si è buttato via una possibilità, la pressione è stata troppo forte secondo me. Certo. Senti Dino, tu che sei stato cinque anni portiere del Napoli e col Napoli sei diventato Dino Zoff, non dimentichiamolo, perché sei arrivato in nazionale già con la maglia del Napoli. Che ricordi hai di questi cinque anni splendidi di Napoli e dei napoletani? Hai anche sposato una napoletana? No, no, non ho sposato una napoletana, però è stato... Ah, no, è Carmignani, chiedo scusa, è Carmignani che ha sposato una napoletana. Ti ho fatto... No, 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 è la mantolana, però, che a Napoli ha lasciato il cuore. Ecco. Noi veramente siamo stati particolarmente feliti. Sì, i primi anni avevamo una grande squadra, poi sul finale un po' meno. Però, insomma, noi in città siamo stati veramente alla grande, è un ricordo straordinario. Ecco, io ho una partita con la Russia, di Coppa Europa nel 68, dove 90.000 persone applaudivano a noi e fischiavano la Russia.